Un bollettino di guerra, 191 lavoratori impiegati in nero, altri 16 risultati irregolari, 89 datori di lavoro verbalizzati per irregolarità. Sono questi i risultati dei 197 accertamenti compiuti della Guardia di Finanza in Puglia per il contrasto del lavoro nero. I controlli hanno riguardato numerose tipologie di imprese, i casi più eclatanti sono stati riscontrati in un salottificio in una falegnameria dell'area murgiana, dove sono stati scoperti complessivamente 15 lavoratori in nero. In due aziende tessili del nord barese che impiegavano irregolarmente 17 lavoratori nella produzione di maglieria, in un'azienda agricola Dauna che impiegava in nero per la raccolta delle uve 8 lavoratori stranieri e 10 addetti alla lavorazione della ceramica utilizzati in nero da un'azienda salentina. Dall'inizio dell'anno, in Puglia, i 787 controlli compiuti dalla Guardia di Finanza hanno portato alla scoperta di 1.076 lavoratori in nero a 384 lavoratori irregolari alla verbalizzazione di 481 datori di lavoro.